E nella cittadina Pentra la tradizione del merletto si rinnova con un'associazione che sta riscuotendo sempre più consensi. Carmela Iavarone, presidentessa dell'associazione Il Merletto di Sernia, l'arte nelle mani. Ecco, è un titolo, devo dire, azzeccato. Perché, insomma, si parla proprio di arte? E perché questa è un'arte vera e propria, è un'arte nobile, è un qualcosa che queste donne portano da anni nelle loro mani. Nelle loro mani grande lavoro, grande soddisfazione e anche però pagate poco. Perciò questa è un'arte che dobbiamo farla rivalutare, riportarla in gambo, in gioco. E noi ci stiamo riuscendo. È un'associazione neonata. Qual è il bilancio degli ultimi mesi? È un'associazione neonata e ormai siamo al sesto mese di vita. È stata costituita a gennaio, anche se abbiamo mostro i primi passi come costituente associazione a dicembre l'anno scorso, quando abbiamo realizzato l'albero di Teleton. Un albero addobbato con merletti realizzati a Tombolo, che poi sono stati donati in cambio di offerte e abbiamo devoluto all'associazione Teleton circa 8.000 euro. Da lì abbiamo iniziato con una serie di progetti, nonostante le limitazioni del Covid, e siamo usciti fuori allo scoperto l'8 maggio, in occasione della festa della mamma, quando abbiamo portato finalmente di nuovo le merlettaie in piazza Celestino Quinto con il loro Tombolo. È un'attività volta a promuovere e rivalutare, come diceva Carmela, il Tombolo. Questa nobile arte ormai da anni è passata un po' in secondo piano e quindi l'obiettivo principale della nostra associazione è riportarla in auge e soprattutto consentire il ricambio generazionale e interessare i giovani e le generazioni successive a quest'arte. Come nasce quest'arte antica e così affascinante? Allora, non esistono documenti veri e propri, né ci sono reperti. Si sa che il merletto a Tombolo a Isernia è arrivato nel Quattrocento tramite le sure delle monache, Santa Maria delle Monache. Fu portato qui dalla regina Giovanna III, Giovanna III d'Aragona, che era andata in sposa a Ferrande, che aveva avuto come appannaggio Isernia a seguito del matrimonio. Quindi lei trovandosi appunto nel monastero di Santa Maria delle Monache aveva imparato e aveva continuato a lavorare il Tombolo. Una passione dunque veramente ricca di storia e arte. Qual è l'auspicio per Isernia? L'auspicio per Isernia è che appunto questo lavoro deve essere di portare, quest'arte, questo modo di esprimersi poi, perché è un modo di esprimersi delle merlettaie, perché un disegno fatto da dieci merlettaie diverse è uno diverso dall'altro perché ognuno ci mette la propria arte, il proprio modo di fare, il proprio modo di vedere, usa i suoi fili, usa i suoi spigli, insomma. Quindi ognuno è diverso, sono pezzi unici nel vero modo, nel vero senso della parola, sono pezzi unici.